88 immobili in possesso di Roma Capitale, altri 12 per i quali l'agenzia che si occupa di gestirli ha emanato 6 decreti di trasferimento. Sono questi i numeri del primo forum romano sui beni confiscati alla mafia, lanciato il 25 gennaio in Campidoglio dalla giunta guidata da Roberto Gualtieri e presieduta dall'assessore al patrimonio Tobia Zevi. Ieri, in occasione della manifestazione in piazza del Campidoglio, nella giornata della memoria dell'impegno per le vittime di mafia, ne abbiamo parlato proprio con l'assessore Zevi. La giornata della memoria dell'impegno per le vittime della mafia è ovviamente un appuntamento simbolico, importante e essenziale per l'identità nazionale di tutto il nostro paese. A questo appuntamento Roma Capitale arriva con i compiti fatti, nel senso che l'inaugurazione la settimana scorsa del forum sui beni confiscati alla criminalità organizzata rappresenta un esempio per tutta Italia, il primo forum di questo tipo a livello nazionale. Le istituzioni tramite il forum cittadino si metteranno all'ascolto delle esigenze dei territori portate da associazioni e cooperative che operano nei quartieri all'insegna della legalità. Ci consentirà di destinare con più efficienza, più trasparenza e forse anche con più visione del futuro quei beni che vengono sottratti dall'autorità giudiziaria alla criminalità organizzata e che poi possono essere assegnati agli enti locali. Il forum avrà anche il compito di raccogliere le proposte e poi istituire laboratori tematici al fine di favorire l'approfondimento di questioni attinenti a quanto prescritto nel regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Gli enti locali evidentemente hanno una responsabilità importante perché un bene sottratto alla mafia è un bene simbolico, è un segnale importante della presenza dello Stato sul territorio e per questo occorre gestirlo nella maniera migliore, cosa che non sempre accade per tutte le difficoltà burocratiche che ci sono anche in questo settore. Ostia ha già sul suo territorio dei beni confiscati importanti, penso alla palestra della Calità che la Regione Lazio è riuscita a ridestinare e ripensare appunto alla luce delle esigenze sociali del territorio. Ecco, questi esempi che abbiamo alle spalle che funzionano devono diventare sempre più frequenti perché purtroppo le inchieste proseguono quindi i beni aumenteranno, aumentano ed aumenteranno e ovviamente in un momento difficile anche dal punto di vista economico e sociale come questo è importantissimo non soltanto dal punto di vista simbolico ma anche dal punto di vista della sostanza gestirli al meglio nella massima efficienza e trasparenza.